Un italiano, un francese e un tedesco entrano in un bar. Il francese dice L'italiano dice Il tedesco dice Il barista li guarda e poi dice Il barista era inglese. Così loro prendono l'aereo, lo mettono in una valigia, la imbarcano su un aereo e tornano al loro paese. Your country, una frazione di Belluno nella regione della foresta nera vicino a Parigi. L'italiano viveva in una pizzeria, il francese viveva in un guscio di lumaca, il tedesco viveva in un drago. Una sera l'italiano dice agli altri due Uè, uè, venite a mangiare da me, stasera faccio il piatto tipico italiano e guardiamo la partita. Il francese disse Oui Il tedesco disse Arrivò la sera. Il francese e il tedesco bussarono alla porta. Ma era solo una porta in mezzo al deserto, il famoso deserto di Sara. Forse sarebbero morti di sete e di mancanza di paesaggio. Entrarono nella porta. L'italiano li stava aspettando con la pizza, pasta, mandolino, mamma, bella calda. Così mangiarono guardando una partita IVA. Goal!